Ok, per questo esercizio partiamo dalla posizione di plank alto, ma le mani questa volta saranno una contro l'altra e creeranno un triangolo. Saranno sotto al petto, raggiungo la mia posizione di plank alto, da qui porto i gomiti in fuori e il petto verso il pavimento, tocco per terra e spingo per ritornare in posizione di partenza. Grazie a tutti.